Bentornati sul canale di Axios 00, bentornati a un nuovo episodio di Minecraft Java Edition Sono nella caverna della scorsa volta, sto costruendo un passaggio che ci riporterà a casa Per chi mi chiedeva che cosa serviva quella botola che avevamo a casa, ora lo vedrete Serve a ricollegarci con una miniera o una cosa simile a una miniera E ora lo stiamo per fare perché sono soddisfazioni anche queste Quindi facciamoci una crafting table, piantiamo a terra, mettiamoci due o tre picconi Facciamo così almeno siamo a posto, piccone di pietra ovviamente non mi serve fare cose stravaganti o particolari con il ferro Anche perché non ho ferro, quindi è che posso fare più di tanto Però tre picconi direi di farceli anche subito, benissimo, così almeno siamo tranquilli E rilassati nel caso debba fare qualcosa Il carbone in teoria ci potrebbe servire, quindi forse Ale se vai di là magari è meglio Speriamo di non trovarci la lava Ok, grazie per avermi ricordato che con la torcia posso distruggere la ghiaia che nel caso mi cade addosso Tra l'altro, tra l'altro c'è una cosa particolare che mi avete detto A quanto pare in java io posso mettere nella seconda mano tutto quello che voglio, davvero? Seriously? Ma è bellissimo Ma è bellissimo sta cosa, io non lo sapevo, grazie mille ragazzi Ma grazie mille Ma io vi ringrazio alla follia di sta cosa, non la sapevo Tra l'altro mi avete anche consigliato appunto di installare una mod particolare Che dovrebbe, ora non la ricordo ma nei commenti c'è, quindi la ritroverò, non vi preoccupate Che dovrebbe permettermi di fare luce anche con la torcia nella mano sinistra Quindi tanta roba Vediamo un po' a che punto siamo Siamo a un punto lontano, quindi io vi taglio tutto e ci rivediamo direttamente quando siamo vicini casa E intanto ci siamo beccati del ferro Che è sempre una cosa estremamente ottima di questi tempi Tra l'altro è la prima vena effettivamente concreta che troviamo Ultimamente abbiamo fatto abbastanza schifo nel trovare ferro Invece stavolta finalmente siamo riusciti a trovare qualcosa di decente Per la prima volta abbiamo trovato quello che credo sia granito o qualcosa del genere Esatto, perché ci ha sbloccato anche nuove ricette Quindi ottimo così Già che ci sono vorrei fare qualche torcia Ok, benissimo Così almeno Perché le ho finite Così almeno continuiamo a vederci Continuo a vederci qualcosa mentre scavo Per l'appunto non ho trovato ancora Sì, ok Non ho trovato, dicevo, ancora grotte particolari Ma aspettavo di imbattermi in qualche grotta megagigante Mi aspetto di farlo prima di arrivare a casa Però magari no Scopriamolo Ci siamo E ci stavo per volare dentro perché non vedevo una ceppa E quindi ci stavo anche per volare dentro tra l'altro Questa sorta di grotta Quindi forse scendere a dare un'occhiata non sarebbe così sbagliato Che dite voi Mi sembra una cosa sensata onestamente Vedere un po' che dove siamo più che altro Che cosa c'è qui Potrebbe esserci qualche minerale Qualche materiale Che ne so io Tipo del ferro lì Ad esempio Che mi sembra una gran cosa Ottimo Vedete? Ferro Ferro Stare in minera è sempre una gran cosa Si trova Di tutto Specialmente Del ferro Specialmente a quest'altezza E tra l'altro non so neanche a quante siamo Siamo A Dove diamo? A 30? Ok Siamo a 30 di altezza quindi Va bene Quella luce viene dalla lava Cos'è che fa questa luce? Porca miseria quanto ferro Cosa cavolo era che faceva quella luce? Scusatemi Ma Giuro che non ho capito Che cavolo di vena è questa? Porca miseria Addirittura Per voi magari sarà piccolissima Ma per me è una delle vene più grandi Che ho mai trovato in vita mia In minecraft di ferro È veramente veramente grande Per quanto mi riguarda Tra l'altro poi ce n'è un'altra qui Per l'appunto Quindi È combo Abbiamo un botto di ferro Sto Mi sta tentando il fatto Di poter usare anche l'altro Il piccone di ferro Che abbiamo per fare Una cosa più rapida Più veloce Anche a scavare Visto che ho trovato Tutto questo ferro Dove cavolo Ma che cos'è questo posto? Bellissimo Credo non ci sia assolutamente niente Perché mi sembra proprio una zona Morta e finita Sì Ale Non c'è assolutamente niente qui No 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 Guarda proprio Nulla Niente 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 Sì Sì Non sembra anche a voi Non sembra così anche a voi Ecco Perfetto Benissimo Ti pareva Ok Abbiamo Ah Questo forse che faceva luce Perché mi avete detto Che questi cosi Possono fare luce Forse è questo Secondo me se noi togliamo la torcia Esatto Sì sì Siamo al buio C'è la luce di quella torcia là E basta adesso Ok 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 Bene 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 Sono soddisfatto così Almeno abbiamo scoperto Da dove veniva fuori quella luce Che è tanta roba Decisamente tanta roba Io però ho bisogno di Tante 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 torce Perché qui siamo Abbastanza lontani da casa E E E E E E Andiamo di un'altra che qui Lì c'è un po' di carbone Prendiamolo Non doveva andare così Ma è andata così Quindi facciamo in questo modo Sì Non si scava mai Stando sotto Lo so Lo so Lo so Ma lo faccio qua Ho preso un po' di carbone Dovrebbe bastare per fare altre torce Comunque nel caso Corriamo un po' Andiamo a vedere dall'altra parte Che c'era Perché ve lo ricordate Si scendeva di qua Sembra Non ci sia niente C'è acqua Ok perfetto Quindi posso tranquillamente Risalire E ritornare A quella che era La nostra strada Ora Io direi di fare Così Qui c'è un'uscita Comunque La vedete Si può vedere Perciò direi di poter procedere Così a dritto Vediamo un po' Ce la facciamo Si Ok Siamo Siamo ripartiti C'è una grotta subacquea Completamente da spodolare Dall'altra parte Porca miseria Ed è gigantesca Almeno sembrava L'avete visto prima Fantastica Altra Altra grotta E qui ci siamo proprio dentro Stavolta Ok Potrebbe Sponarmi qualche nemico In me che non si dica Quindi magari facciamo Un'apertura un po' più considerevole Qui Che non si sa mai Ok Qua non c'è assolutamente Niente Potrebbe esserci qualcosa No Ok Qui è bloccato quindi Perfetto Bene Meno strade ci sono possibili Meno possibilità di perderci C'è Quindi bene così Illuminiamo un pochino Giusto per avere un'idea Di dove stiamo andando Di che cosa stiamo facendo Qui non serve la luce Ma mettiamoci comunque una torcia Per farci capire che Ci siamo stati Ui Ferro Tra l'altro vi voglio ringraziare Perché anche nei commenti Della scorsa volta Vi siete messi a dirmi Dove avevo lasciato il ferro Quindi grazie Thank you so much Cosa Sembra più grande del previsto Sto posto Io non so perché Ma mi dà l'idea Di essere estremamente Più grande del previsto E mi sono lasciato indietro La parte più succosa Ragazzi ma queste rocce Non sono A me queste rocce Ricordano qualcosa Ma non ricordo cosa Cos'è 9 ricette sbloccate Che cos'è Pietrisco di ardesia scura Io vi giuro Può darsi che sia tipo dungeon O qualcosa del genere vicino Io lo prendo Comunque perché Mi piace Come è fatto Mi piace davvero tanto E magari Andiamo a sbloccare Anche qualcosa Di particolare O magari Semplicemente Un materiale Che troviamo in giro E basta Che è probabilissimo Però è una figata Avelo scoperto così E guardate Quante ce n'è Ce n'è un botto Se lo piccono col ferro Cambia niente Semplicemente Facciamo più veloce Lapislazzuli Yes Grandi lapislazzuli Yes E anche Un po' Un po' Di Slapislazzuli Grandi Molto piacevole Come cosa Che cavolo Guardate qui Sono mura proprio Queste Bellissime Si sto usando Il piccolo inferro Già che c'eravamo Dai Ci può stare A me questa Sembra proprio Una zona Mi sa tipo Dungeon Però Effettivamente Non c'è niente Ok Va bene Abbiamo Scavato abbastanza Ragazzi Quindi vediamo un po' Di tornare su In qualche modo Perfetto E Qui Si concludeva Tra l'altro La zona Quindi non è neanche Da dire che Devo andare a cercare Da altre parti Devo semplicemente Tornare indietro E provare a Uuuuh Mica vi avevo Visto voi E quanti siete Anche E quanti siete Non quanti prima Però qualcuno C'era Ve l'ho detto Che questa cosa È enorme Io l'ho detto Che questa cosa Era enorme Ragazzi Abbassiamoci Va Vediamo un po' Wow 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 Sto pensando a come Non cadere giù Più che altro Non finire nella lava Potrei fare Potrei fare delle barricate In modo da Non far passare la lava Ma potrei anche Semplicemente scavare Un tunnel Qui Aspettate che prendo Il piccone giusto Qui alla parete Così magari Andiamo vicini 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 All'oblio Ok Perché sarà il nostro oblio Questo Nel senso che ci finiremo E andrà a finire molto male Ok Un po' di carbone La giusta quantità Per fare due o tre torci Nel caso ne avessimo bisogno Cerchiamo di liberare la zona Così da vedere anche Che cosa c'è sotto Possibilmente Ok Che Dannazione Non mi son preso La Walking station E quindi Il problema è che Dovrò tornare indietro A prenderla A breve Si sto rompendo Anche questi blocchi Perché voglio vedere Che c'è oltre Se posso Ovviamente No eh Non ci arrivi là Ok Almeno stiamo guardando Che cosa ci aspetta Che non è male È un po' giocare safe La peppa Detto giocare safe Mi è apparso Il vuoto E qui Aspettate un po' Fatemi continuare Un attimo di qua Secondo me Forse sarebbe meglio Passare lì sotto Sapete Stavo per fare Una scala da qui Ma potrei Anche Semplicemente Fare una sorta di Passaggio No 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 Non facciamo Nessun passaggio Facciamo che Andiamo di aggressività Andiamo di aggressività Maledizione Ho rotto Ah Picconi Devo tornare indietro A prendere i picconi Ragazzi Una Ho una carota Questa va piantata Fermi tutti Fermi tutti Sapete cosa Sono tornato indietro A prendere la carretta in tevole Ho visto che stiamo Per finire il legno Quindi Forse sarebbe meglio Lasciar perdere L'esplorazione Laggiù per ora E Cercare di arrivare a casa Così in modo da Eeeh Spangarcela Si può addirittura Usare questo Nooo Bellissimo Si può addirittura Usare questa Per fare i picconi Ma che spettacolo Mica lo sapevo io Ma Meravigliosa sta cosa Letteralmente meravigliosa Maravigliosa Ok Facciamo così E ci facciamo anche L'ultimo piccone Perfetto Allora io riprendo Lo scavo E per farlo Eeeh Userò qui Del pietrisco Ok Quest'uovo ce lo Leviamo di torno Perché intanto non ci serve Cercherò di Continuare a questa altezza Così da Avere una via Comunque Unica Ok Bella dritta In modo da tornare Verso casa Altra zona Che si apre Sotto di noi Quindi Altra zona Che andrà esplorata Magari ci metto Due torci Qui sopra Per ricordarmi Che c'è roba sotto Tipo Ehi Cosa fai Tipo Due conseguenti Ok Così Così a me non mi ricordo Che sotto c'è qualcosa Credo sia sempre La stessa grotta Di prima Sapete ragazzi No No Cioè T'ho fatto proprio il ponte Per venire da me Cioè Della serie Vieni pure Ma porca miseria Ma guardate voi Che scemo che sono stato Perché lo sento anche da dietro Forse è da qua giù Ma da qui non posso salire Da dietro lo stesso Quindi ok Forse fare una specie di Barriera Anche per evitare Che ci sparino Gli arcieri Perché potrebbero esserci Degli arcieri Potremmo trovare arcieri Potrebbe diventare Tutto molto problematico Quindi Magari Facciamo una cosa Del genere Bellissima questa Caverna Comunque E' una figata Ragazzi Questa E' sempre quella di prima Laggiù ci sono le cascate di lava Ho visto Guardate quanto è grande Poi Cioè Rendetevi conto Di quanto è grande Questa cosa Io qui ci piazzerei Anche Una bella torcia Guardate qui Sì Dovrei tappare anche sopra In via del tutto teorica Per non farmi cadere I nemici in testa Ma sono dettagli Ma sono dettagli Ma no Ma non importa Ma chi siamo noi Ma non importa Fidatevi Fidatevi Io lo so che ci cadranno in testa Vabbè Noi proseguiamo Così almeno in testa Non ci cadono Perché se non ci siamo noi Il mondo non funziona E quindi Non ci sono problemi Di nemici che entrano qui dentro In teoria Speriamo bene No Cosa Quanto cavolo è grande Questo posto È il nether Cos'è questo È il nether in terra Cosa cavolo è Ferro Mamma mia ragazzi Dove siamo Meno 66 164 Siamo lontanissimi ancora da casa Ma è bellissimo sto posto Speriamo Che non ci siano arcierie Figata Pazzesca Pazzurda Pazzerri Ma quello che volete Ma è una figata sta cosa Tra l'altro Fatemi ci mettere una torcia Qui Scusatemi Tante volte Sapete perché ce l'ho messa Perché tante volte Che adessimo Della serie Dov'è il ponte Perché non sono sicuro Che c'è un boiume Che è l'amoroso E lì c'è uno slime No è un creeper Vero No forse è uno zombie No forse è semplicemente Uno zombie Potrebbe Venirmi a dare fastidio Ok No Lo sapevo io Che finiva male Cos'è che mi ha colpito Però ragazzi Scusatemi Non mi ha colpito lui O si Ok qui c'è un altro nemico Facciamolo a fette E il cibo me l'ho tenuto Un po' per Ma sono i pipistrelli Secondo me Sapete Secondo me mi ha colpito Il pipistrello Possono colpire i pipistrelli In teoria Allora Vedete Perché si vede male Ve l'ho detto io Che era meglio Fare sta cosa A parte Forse posso andare Dalla parte di là Aspetta Togliamo di mezzo Anche lui Forse No L'ho sentito In tempo Ho reagito In tempo Ho reagito Ho reagito Giusto giusto In tempo A sta cosa Mamma mia Si è ben rischiato Ok Saliamo pure su Che figata però Che è in miniera Ragazzi È una figata Dai È comunque una figata Pazzesca Ok Allora Da qui Credo di potermi Praticamente Riallineare Di là Se scavo Giusto giusto Uno sopra di noi E faccio così E ci siamo Esatto Tra l'altro Da qui Non credo neanche Che possano saltare Perché vedete Non ci si arriva Scusatemi Ma questa cosa La devo vedere Un attimo Dal centro Perché è qualcosa Di bellissimo Guardate voi Quanto è grande È letteralmente Immenso Altro ferro Là Ma poi Immensa Anche sopra Cioè Immaginatevi voi A scavare da sopra E a trovarvi Ah le stai andando Dalla parte opposta E trovarvi Una cosa immensa Così Quello è un creeper Potresti non esplodermi In faccia Gentile Mi basta questo Non sono sicuro Finirà Bene Non sono sicuro Finirà Ecco Appunto Come volevi che finisse Ale Come pretendevi mai Che finisse Con un creeper Nei dintorni Uno l'ho schivato Questo un po' meno Ma porca miseria Ma guardate voi Ok Altra roccia messa Altra torcia messa Direi che a questo punto Possiamo procedere Là c'è dell'acqua Non l'avevo vista Ok Io proseguo qui dentro Credo ci sia nient'altro Almeno per adesso Picconi per ora ne ho Cibo per ora ne ho Dipendo quanto dura Ma per ora possiamo Sopravvivere Forse Sento acqua Sento sempre più acqua Potremmo anche essere In una zona Molto Molto acquosa In effetti Prima o poi Dovremmo passare Sotto a dell'acqua Sotto a un fiume Praticamente Qualcosa del genere Quindi può darsi Che ci stiamo passando adesso Può darsi che l'abbiamo Semplicemente già Altra passato Non lo so No cos'è questo Cos'è Cosa cavolo No polvere la sparo Neanche Sotto tortura Cos'è quella cosa Che abbiamo appena preso Scusatemi Selce Pietrisco Eh non lo vedo Non lo riconosco Granito Rame grezzo Ecco il Blocco di Ah è un blocco di rame Ah È un blocco di rame Quindi inutile Perfetto Benissimo Alla grande Non l'avevo mai visto Ferro Abbiamo trovato l'acqua Ok Allora C'è da gestirla un po' qui Perché devo capire un po' dove siamo È una caverna sottomarina O cosa questa Non si capisce Sembra Sembra una caverna sottomarina E completamente sott'acqua Guardate voi Bellissima Questa è letteralmente bellissima sta cosa Io sto affogando giustamente Perché sono un genio E quindi mi metto a affogare lì Prendiamoci un po' di cibo Così almeno ci ripristiniamo un po' l'acqua Allora Quello che pensavo Forse È che Dovremmo Passare sotto Ok Sotto Qui c'è da scavare giù Per cercare di andare sotto All'acqua Ora Non so che distanza Sarà Più o meno L'acqua Ma cerchiamo di andarci abbastanza bassi Perché ho visto che c'era anche Tipo la Come si chiama La lava Blocchi di magma Ora Mettiamo qui Una torcia Così almeno ci vediamo qualcosa Tra l'altro non so neanche per quanto Dovremmo Andare avanti Stando a questa altezza Ora Mi è sembrato Almeno a occhio Che Qui la zona Andasse più che altro in alto Rispetto al basso Quindi in teoria Non dovremmo avere problemi Passando al di sotto Di questa parte In teoria In pratica Vediamo Vedremo A breve Presso a brevissimo Ok What? Sì L'ho visto che c'era Del ferro lì Ma Stiamo un po' più indietro Prima che mi butti in di sotto Questi Viliacchi Dei pipistrelli Wow Ferro A profusione Sopra di noi Ci arrivo? Troppo lontano Vero? Sì Lassù Mi sembra che ci sia Un'uscita Tutti gli effetti A che punto siamo? Noi siamo a 87 Dovrei arrivare a 2 2,30 Mi sembra No 2,80 E 130 Più o meno La statistica Invece centrale Invece che 18 Dove c'è scritto X, Y, Z Dovrebbe essere Sui 95 Ma Tanto è l'altezza Quella Quindi non è Non è un problema L'altezza Quello che mi preoccupa di più È la profondità E Mi è sembrato di sentire Scheletri qui in giro Ma Scusatemi Ma Quindi Di là c'è una grotta Ma è pazzesco Scollegata completamente Da questa parte Ma è follia Ok Allora Facciamo una cosa Non so quanto verrà lungo Questo video Ma io davvero Da tanto che registro Adesso Perciò Per questo episodio Noi ci salutiamo qui Spero vi sia piaciuta Comunque Esplorazione E Con Tra l'altro Un botto di cose trovate Lapislazzuli Un botto di ferro E quant'altro Veramente Veramente Di tutto Tanto io vi ringrazio anche per ricommettere l'altra volta Perché Volevo tornare a casa per fare la recinzione Quella esterna È per quello che stavo cercando di uscire E Quindi Grazie Per avermi Dato quel suggerimento E per avermi detto che con Rame A quanto pare si fa il cannocchiale Quindi Tanta roba Perché è una delle prossime cose che voglio Perciò Per questo episodio Noi ci salutiamo qui Vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video Se il video vi è piaciuto Vi condivido sui vostri social Ovviamente se vi va Se vi fa piacere Se vi è mi data una mano a crescere come canale E noi ci vediamo alla prossima Ciao